Allora l'evento si svolgerà domani sera il 2 di agosto al Patti's Bar alle ore 21. Avremo alcuni ospiti che appunto dopo la presentazione del libro parleranno di alcuni temi fondamentali della riconversione ecologica dell'economia e di buona e piena occupazione. Il libro in pratica riprende una vicenda di 42 anni fa circa dove morirono due giovani operai di Orciano e di San Giorgio durante l'installazione di alcune cisterne di una costruenda fabbrica chimica. La cosa destò uno scalpore enorme, si costituì un comitato cittadino e insieme alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni di categoria fu fatta una grande battaglia per capire esattamente perché si voleva costruire questa fabbrica chimica Orciano. Ovviamente verrà presentata anche una rivista dal titolo 8 Secondi. Esatto, la presentazione del libro viene fatta dalla rivista 8 Secondi che è una rivista nata un anno fa, quindi presentazione dei libri, affrontare i temi come il lavoro, la sanità sul piano culturale, la cultura in modo particolare, le iniziative culturali e tutto questo riprende l'attività di questa rivista proprio con la presentazione di questo libro. Quali saranno le modalità di accesso per tutti coloro che vorranno partecipare? La modalità di accesso è gratuita, verranno distribuite gratuitamente le copie di questo libro fino ad esaurimento. Siccome la pubblicazione viene fatta dal Consiglio regionale le copie devono essere distribuite assolutamente solo gratuitamente.